Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 5 novembre. Ariete, la luna di oggi riesce a farvi tornare il buon umore che spesso perdete a causa dei contrasti che vivete sul lavoro in amore. Un incontro interessante per i single. Toro, qualche piccolo imprevisto inevitabile, sotto questa luna ancora il leone. In famiglia sarete molto impegnati e sul lavoro non tutto filerà al liscio. Gemelli, una luna molto positiva vi riempie di speranze. Serve a darvi una scarica di ottimismo per poter affrontare questo periodo davvero stimolante. Cancro, la luna parla di qualche impegno di lavoro un po' monotono. Sarete chiamati a risolvere problemi che vi riguardano direttamente anche in famiglia. Leone, ci sono transiti davvero fantastici per voi. L'amore è il protagonista di questa giornata. Grandi slanci passionali ed Eros alle stelle. Non sottovalutate i problemi in casa. Vergine, una giornata tutto sommato tranquilla. L'amore può essere fonte di emozioni, quindi dedicatevi al partner. Sempre disponibile nei vostri confronti. Bilancia. Mercurio e Scorpione vi aiutano a raggiungere obiettivi importanti sul lavoro. Anche oggi sarete abili ad evitare qualche colpo basso nei vostri confronti. Scorpione, giornata faticosa. Non vi sentite in forma e non riuscirete a fare molto. Limitatevi al minimo indispensabile e cercate di trovare un equilibrio sentimentale. Sagittario, giornata molto positiva. L'amore torna a risplendere. Questo vi mette di ottimo umore. Positivi nuovi incontri, viaggi di lavoro o di piacere. Capricorno, dovete contrastare un certo nervosismo che vi rende inconcludenti. Per fortuna potete contare sempre sulla vostra caparbietà. Saprete organizzarvi al meglio. Acquario, luna difficile che vi rende molto suscettibili e quindi facilmente irritabili. Cercate di mantenere la calma. Avete necessità di trovare le parole giuste. Pesci, nulla vi è vietato in una giornata come questa. I rapporti con gli altri sono splendidi. In famiglia riuscite a farvi valere e in amore vivete un momento passionale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano su Facebook alla pagina Oroscopo di Azus. Grazie. Grazie. Grazie.